eccoci qua alla partenza ecco lì il gruppetto con Mauro salta la macchia io mi sto già attardando ovviamente ecco il passaggio ecco Dani Miglio che dice che non è allenato ma dopo lui fa rulli nello suo studio fa due orette di rulli ogni sera dopo fuori dice che dice che non è allenato tre volte tre volte morirò su quella caccia di stilogio Fabio Lucantoni eccoci qua la nostra grandiosa con l'elettrica e adesso qua ce n'è altri due che vado a rancurarmi stai in posizione stai in posizione ciao siamo al top di Punta Ala un panorama a 360 gradi meraviglia è la Punta Ala il top stai in posizione con la mia stai in posizione è la punta di Punta Ala Dio caro, è sempre il capone ecco una delle tante salitone e credeva di aver scollinato, invece c'è ancora e qua spingo che così risparmio il culo e le gambe andiamo a sudarselo il trail andiamo a sudarselo questo è un paese dove non c'è anima ultimi metri e poi chiudiamo eccoci qua la piazza, la piazza del cattedrale o duomo che dir si voglia ecco di là, i nostri amici grandissimo, vieni che ti sto a firmare vieni qua vieni qua grazie a tutti